Inizia l'attività musicale professionista nel 2008 e vince diversi premi legati alla canzone d'autore italiana, tra cui il Liri Festival, la Ray Rock Festival, il concorso L'artista che non c'era e il premio sia e Miglior Testo. Nel 2009 pubblica il suo album di debutto, Bacio ancora le ferite, inciso per la casa discografica Uend Records di Marco Valente, specializzata in dischi di genere jazz. L'album contiene tutti i brani di cui la MU è autrice, tranne la cover di Pensiero Stupendo, il successo di Patti Bravo scritto da Oscar Prudente e Ivano Fossati. Tramite Red Ronnie entra in contatto con Caterina Caselli, che le propone un contratto discografico con la sua etichetta. La Sugar Music, L, 8 marzo 2011, anticipato dal singolo Giungla, pubblica il suo secondo album E, in cui è inclusa la canzone oltre, inserita da Roberta Torre nella colonna sonora del suo film I Baci mai dati, ed una cover di Don't Stop, il celebre successo dei Fleetwood Mac. La versione della MU viene scelta per uno spot pubblicitario dell'ENI. Un altro brano, La neve sul mare, è stato inserito nell'antologia La leva cantautorale degli anni Zero, curata dal May e dal Club Tenko. La produzione dell'album è curata dall'islandese Val Jair Sigurdsson, già collaboratore di Bjork, nello stesso anno effetto anche un tour negli Stati Uniti. E si classifica al secondo posto nel sondaggio del quotidiano La Repubblica sul personaggio. Pugliese dell'anno, vince inoltre il premio del May come talento dell'anno. Il premio XL, Nuova Musica Italiana, e il premio May, Miglior Tour. Pur essendo inclusa tra i candidati al premio Tenko come miglior album d'esordio per E, viene poi squalificata quando l'organizzazione viene a conoscenza del suo vero primo album. Del 2009, dopo la pubblicazione dell'album, Erika si esibisce in tour calcando i palchi di importanti manifestazioni ed eventi come il Concerto del primo maggio a Roma, Iguin Music Awards a Verona, dove ritira il premio speciale assegnato da alcune associazioni del settore discografico di Confindustria Cultura Italia, FIMI, PMI e AFI, la Ineche Niamin Festival e gli MTV Days di Torino. A settembre 2011 fa parte del cast artistico dello spettacolo teatrale Il Bene e Mio diretto dal Regista Cosimo Damiano D'Amato, esibendosi insieme a Renzo Arbore, Lucio Dalla, Moni Ovadia e Lunetta Savino. In ottobre, insieme ai subsoniche e a Caparezza suona l'Eat Week Festival negli Stati Uniti. Il più grande festival di musica italiana in America.